Dunque aggiungo solo un rapido saluto anche per non prolungare ultimamente la pazienza e volevo ovviamente ringraziare, aggiungo il mio ringraziamento a tutti i ringraziamenti già espressi ai autori e ai presentatori che hanno così attentamente e intensamente letto questo volume scovando veramente molti dei nostri pensieri, dei nostri obiettivi, delle nostre aspirazioni e trovando appunto quella militanza di cui sono ovviamente anche molto fiera se questo si può dire, mi sembra un aggettivo bellissimo in questi tempi soprattutto e mi è molto toccato anche il fatto che si abbia anche ripensato a come trasmettere questo nell'aule della didattica, noi veniamo da una didattica, dall'esperienza appunto avuta nell'aule della sapienza in tanti anni di corsi, di studi con Maria Zalai, Michela Di Marco e Orietta Rossi Pinelli, siamo ovviamente fieri di averle qui tutte e tre, che ci hanno dato tante spinte all'inizio che poi stiamo verificando noi nei nostri piccoli laboratori della didattica e molti pensieri sono nati anche lì di come trasmettere perché abbiamo avuto ci è stato trasmesso tanto e un altro diciamo di questi laboratori per noi sicuramente fondamentale e anche per questo credo che sia assolutamente fondamentale di portare avanti questo progetto è stato il lavoro per la banca dati resi da cui siamo passati tutti e che è prezioso ovviamente per i dati, per il patrimonio che contiene ma anche perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle di quanto questo tipo di ricerca, di quanto questo coinvolgimento, un progetto grande abbia anche dato diciamo molto spessore e intensità ai nostri percorsi anche proprio in una fase iniziale e questi coinvolgimenti forse sono qualcosa che oggi nelle aule laboratorie che dovrebbero essere laboratori della didattica cominciano a mancare in modo sempre più pauroso e in modo più straziante si danno bocconi di sapere frammentato e non si forma più non c'è per quello che dicono i tedeschi la bildung cioè proprio di dare forma si imboccano istruzioni per montare mobili Ikea ma non si impara più a fare una sedia e insomma l'idea che questo volume in qualche maniera riesca anche a rientrare in un percorso per il futuro ci sembra una cosa veramente importante e vabbè, mi fermo qua con un ringraziamento veramente di cuore sentito grazie a tutti un ringraziamento ripetuto ancora a questa storica accademia che ci ha ospitato e al suo presidente che è qui grazie 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 a tutti.